Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi. Il Nascere nella Terra è un film sull'agricoltura alternativa, soprattutto, ma anche è un'esplorazione sulla nostra relazione con la terra. È un viaggio, il mio viaggio che ho fatto tra realtà e diverse comunità, soprattutto in Spagna, ma anche qui in Italia, in Francia, in Grecia e nel Canada. In realtà sono gente che sta facendo cambiamento nella sua relazione con la terra, tra il cibo, soprattutto tra il cibo, ma la consapevolezza del nostro fare con la terra. Le cose più relevanti che ho imparato in fare questi film è come c'è un movimento mondiale di ricerca, di cambiamento, perché l'Estatus Quo ha bisogno di questo, la terra ha bisogno di questo. Ho imparato che la terra parla anche quando non lo sappiamo. Durante il viaggio ho incontrato diverse tecniche di agricoltura, soprattutto, ovviamente, agricoltura biologica, permacultura e agricoltura naturale. Questi film dovrebbero vedere i giovani, soprattutto i giovani, che sono consapevoli che il sistema non sta funzionando bene, che sta crollando veramente. Abbiamo bisogno, urgente, di cambiamento. Allora, Italia che cambia è quello, no? Non so che cosa è per me, il futuro, Italia che cambia è il futuro. Allora, Italia che cambia è il futuro.